Lorenzo Collacchioni primo giorno mister si parte ufficialmente e ti chiedo dopo tanta attesa finalmente si parte innanzitutto sei emozionato si sempre c'è l'emozione quando parte un nuovo percorso una nuova annata si parte con tutti i buoni propositi siamo a conoscerci perché un completamente è un gruppo completamente nuovo perciò c'è tanta curiosità e tanta voglia di iniziare perciò adesso dobbiamo usare per quanto mi riguarda ma per tutti poche parole iniziare a sudare per poi appunto iniziare a formare un gruppo che deve essere ancora definito per poi fare fare quello che c'è da fare giorno dopo giorno per prepararci alle partite che devono arrivare per toglierci delle soddisfazioni un nuovo ciclo un nuovo corso mister ti chiedo quali sono i tuoi propositi il lavoro l'impegno la passione quello il sacrificio quello che ci devono mettere ragazzi e ci voglio mettere io in prima fila quello di appunto dare il massimo per cercare di ottenere appunto il massimo da un gruppo da me stesso e ognuno dal per se stesso insomma perché alla fine lavorare sul singolo e sul gruppo se tutti si riesce a tirar fuori il meglio poi sicuramente riusciremo a a gioirne o a passare molto molti più momenti positivi che negativi tutti insieme torni a stavarnele stavolta in veste di allenatore che ambiente trovato ma l'ambiente un po conoscevo sicuramente cresciuto sicuramente ha avuto delle esperienze importanti come l'anno scorso anche se non sono finite bene ma sono convinto che se le sta portando dietro con l'ambizione di aver assaggiato un qualcosa che prima o poi vuole riassaggiare perciò una società che ha tanta voglia di crescere e questo si percepisce perciò spero nel mio piccolo e tutti insieme di dare il contributo per crescere per far arrivare questa società che già si è creata un nome importante in categoria e non solo per appunto renderli orgogliosi di noi in modo che insomma ci sia sempre più occhi puntati su questa società